Radio 00, Radio 00, suona ciò che ami, più suona e più la ami All'interno di Memento al Teatro Traetta stasera a Bitonto abbiamo il nostro concittadino attore 100% made in Bitonto, Gianni Lillo, con una sua opera molto particolare, Uccidimi Allora partiamo da questa cosa qui, perché Uccidimi una cosa così cruenta, così forte? E Uccidimi viene dalla non ribellione di un popolo, il popolo che non si ribella forse chiede di essere molto forte, ucciso e quindi Uccidimi viene da questo Senti, hai scelto questo titolo così forte, ci spieghi un po' che cos'è Uccidimi, come è nata, come si è sviluppata Perché hai voluto prendere proprio questo titolo per sviluppare questo tuo progetto? Allora, il progetto nasce da una delle prime manifestazioni create da Rino Rocco Mangini Mangini e il comune di Bitonto e Fiorella Carbone La manifestazione è appunto Memento Mi chiesero di fare una lettura e scrissi, diciamo, quattro pagine così per leggerle davanti alla cittadinanza bitontina E quindi, poi col passare del tempo Uccidimi ha preso sempre più forma Con, diciamo, la conoscenza della videomaker Cristina Crippi Abbiamo creato un vero e proprio spettacolo Dire spettacolo, insomma, sui genocidi è una cosa abbastanza terribile Ma abbiamo creato appunto questo, diciamo, questo testo sia letterario che video A tratti documentaristico, a tratti teatrale Senti, allora, chiediamo un attimo alla videomaker come è strutturata la serata O meglio, che cosa succederà a livello di videomaker E poi mi dici tu qualcosa di particolare dopo Sì, allora, lo spettacolo sono diversi quadri e diversi personaggi Quindi ci sarà una prima parte, appunto, con un arrivo particolare di questo reduce, possiamo dire, di guerra Che si aprirà subito in un ambiente astratto Che ci ha suggerito il nostro regista Andrea Taddei Che ci ha seguito nello sviluppo e appunto nella messa a punto del testo Dalla lettura, poi, alla trasformazione dello spettacolo in quello che è E gli altri quadri sono personaggi molto diversi Fino alla seconda parte, che invece è una parte, diciamo, predominante Che tratta il tema del genocidio degli indiani d'America Che noi abbiamo identificato come il genocidio, insomma, più grande della storia Appunto, sia per i numeri, sia per durata nel tempo E quindi, appunto, c'è questa alternanza tra la figura del narratore e Gianni Che entra e esce in questi diversi personaggi a comporre questi quadri Con delle piccole scenografie video degli intermezzi E quindi, appunto, abbiamo cercato un modo diverso Per parlare di questo tema così difficile, così magari anche ossico E non, diciamo, invogliante, ammiccante come tema teatrale Per raccontarlo in un modo diverso Per trovare un punto di vista diverso Che non fosse, appunto, l'immagine così urlata Di queste, che conosciamo molto bene, no? Quindi delle maglie a righe Dei deportati, dei fili spinati, eccetera E quindi abbiamo fatto, appunto, tutta questa grande panoramica Usando diversi personaggi Così, in modo astratto, nella storia e nel tempo E questo è Per cui è da vedere Ma, sì, fateci sapere anche cosa ne pensate E come arriva E se per sé è interessante, appunto Abbiamo speso una buona parte di racconto storico E ci tenevamo a farlo, nel rispetto, appunto, della memoria E così, quindi lo show, diciamo, è ben dosato Rispetto a una parte più riflessiva di racconto E così non è noioso, ma racconta E spero che, appunto, riusciate a seguirci Allora, ti faccio una domanda Questo progetto l'hai scritto tu Hai detto che pochi minuti fa hai finito le prove generali C'è stato un momento, o meglio, di questo spettacolo C'è stato un momento più emozionante rispetto ad un altro Magari quando l'hai scritto Piuttosto che quando l'hai interpretato Come l'hai pensato C'è qualcosa che ti ha preso veramente da dentro? Lo spettacolo è stato scritto di getto Non ci sono stati pensieri extra Ma, diciamo, la tragedia di quello che è successo In diversi paesi del mondo Dentro di me non ha avuto bisogno di pensieri Per cui hai portato dentro Un po' meglio, hai portato fuori tutto quello che avevi dentro E anche, diciamo, abbiamo utilizzato anche alcune parti Un po' più ironiche Per trattare questo argomento Si parla di numeri Si parla di gente che non c'è più Ma l'abbiamo fatto anche In un modo quasi per sdrammatizzare la situazione Qualche sera fa c'è stata una tua partecipazione Abbastanza corposa ad un film molto particolare Tra tutti i personaggi che hai interpretato Ce n'è uno che ti è rimasto dentro il cuore? Mi è rimasto dentro il cuore Giacomo Puccini Che ho interpretato per la televisione tedesca Quattro anni fa Ed è stato un personaggio che Mi è rimasto dentro Perché ha avuto una vita straordinaria Piena di successi Ma allo stesso tempo piena di Piena di amore verso il sesso femminile Invece Piena proprio d'amore Totalmente Totalmente piena Senti, invece progetti per il futuro? Progetti per il futuro Appena finito di girare Sempre per la Tau 2 La stessa produzione di Renata Fonte Solo 2 Ero l'antagonista di Marco Bocci In questa serie televisiva Che dovrebbe uscire Credo o in primavera O nel prossimo autunno E invece quando ti vediamo da capo in giro Qui a Bitonto? Non lo so Spero che mia madre faccia presto Una buona parmigiana Così prendo il treno E arrivo subito Ricordati una fetta Perché Facciamo due Va bene Grazie Gianni per la tua disponibilità Grazie Nicola Buona serata Radio 00 Suona ciò che ami Più suona E più la ami